Non abbiamo fatto in tempo ad asfaltare Putin, che eccoci già tutti belli pimpanti a mettere definitivamente in ginocchio l'altra colonna portante dell'internazionale autoritaria oscurantista, il malvagio Xi Jinping, l'uomo solo al comando del più popoloso stato del pianeta. Come ripetono all'unisono da qualche giorno tutti i media occidentali, il classico gigante dai piedi di argilla, che in questi giorni sta celebrando la sua triste e solitaria incoronazione a vita. È il frutto di una terribile riforma liberticida di ormai quattro anni fa. Xi Jinping presidente a vita, scriveva il corriere e aggiungeva anche, ora è più potente di Mao. E grazie al cazzo, è morto nel 76, vabbè il culto della personalità, ma insomma pure da morto sarebbe troppo pure per i cinesi. Comunque è ufficiale, Xi è stato incoronato presidente senza limiti, scriveva formiche.net. A turbare i sonni dei paladini dell'ordine democratico era la riforma che rimuoveva il limite a due soli mandati per la carica di segretario del partito comunista cinese e quella di presidente della repubblica cinese, che sostanzialmente coincidono. E così ora Xi Jinping con ogni probabilità, dopo dieci anni, riceverà un terzo mandato. Certo, non siamo ancora ai livelli dei sanguinari regimi dittatoriali di Netanyahu in Israele, durato 15 anni, e soprattutto quello della Merkel in Germania, durato 16, ma la direzione è chiaramente quella. Esattamente come Putin, inoltre, anche Xi è un dittatore isolato. All'estero è schifato dall'intera comunità internazionale. Non ho afferrato, scusi. Come dici? È il principale partner commerciale di 120 paesi su 195 che ci sono in tutto nel mondo? Megoglioni. Vabbè, saranno tutti i paeselli del cazzo che ha invaso, no? Ah, anche USA e Unione Europea. Giappone anche. Cioè USA e Unione Europea parlano di sconto di civiltà, ma poi commerciano più con la Cina che è tra di loro? Ah, non lo so io. Scusami. Vabbè, sul fronte interno però è isolato davvero. Alla fine è soltanto a capo di un partito che conta 96 milioni di iscritti, 3.000 scuole di partito, circa 300.000 squadre di lavoro territoriali pronte a intervenire in caso di calamità naturale o altre emergenze e 5 milioni di organizzazioni di base. Un po' tipo il PD, diciamo. La fotocopio originale a me. Comunque, quello che è certo è che il ventesimo congresso si apre in una situazione di profonda crisi. L'economia cinese sarebbe vicina al collasso. L'ennesimo, il primo, risale ormai a quasi 30 anni fa. Era il 1995 e Foreign Policy titolava il collasso cinese in arrivo. Piccola variazione sul tema, sei anni dopo. Gordon Chang è un prestigioso saggista e avvocato sinoamericano, citato spesso da Edward Lutbach, è ascoltatissimo negli USA sia dal Dipartimento di Stato che da quello della Difesa. Nel 2001 ha pubblicato questo best seller, il crollo in arrivo della Cina. Prevedeva che il dragone sarebbe collassato entro il 2011. Poi, nel 2011, ha spostato la data al 2012 e poi, a dicembre 2012, al 2013, con tanto di articolone sull'IMES. Lo stesso, sostanzialmente, è di 11 anni prima, quando si dice un evergreen. Nel frattempo, nel 2004, anche l'Economist aveva previsto un crollo rovinoso dell'economia cinese. 2008, il rapido collasso economico cinese spinge verso misure disperate. 2011, perché la Cina collasserà? Perché il suo vecchio modello di sviluppo è morto. Ma attenzione qua, non tutto il male viene per nuocere. Come approfittare dell'imminente collasso della Cina, dicono. 2012, Guardian, il collasso della Cina porterà la crisi economica al suo apice nel 2012. 2013, altro best seller, James Gorrey, la crisi cinese. Come il collasso economico della Cina porterà alla recessione globale. 2016, Fortune, incontriamo l'uomo che aveva previsto il collasso dell'economia cinese. L'uomo è Michael Pettis, che tra le altre cose è stato il fondatore dello storico locale punk rock di 22 di Pechino. Quando ha capito per la prima volta che il modello cinese non era sostenibile? Gli chiede il giornalista. Direi che già nel 2006 era abbastanza evidente, risponde. E poi nel 2018, il collasso della teoria del collasso cinese. Finalmente, direi. Ma è durata poco. Come ci spiega il Corriere, a questo giro a rendere particolarmente fragile la leadership di Xi è la gestione dell'emergenza pandemica. Continui lockdown anche solo per una manciata di casi, tamponi a ripetizione, crollo verticale dell'economia, mentre l'Occidente, come vedete tutti i giorni, vive un vero e proprio nuovo boom economico. Un disastro, coperto dalla solita insostenibile propaganda catto confucio comunista. Il Partito Stato avrebbe privilegiato la vita umana. Ma quando mai? Solo perché contro il milione di morti degli USA, su una popolazione di 330 milioni, la Cina, su una popolazione di 1,4 miliardi, oltre quattro volte tanto, ha superato a malapena quota 5.000. Facile quando sei una dittatura. Così, per curiosità, quanti morti servono per essere una vera democrazia? La Russia, ad esempio, ne ha contati circa 380.000. In proporzione sempre decisamente meno che gli USA, ma ci siamo quasi. Basta, no? Il malcontento nei confronti della dittatura personale di Xi ha bruscamente interrotto l'idillo artificiale dei preparativi del congresso quando nella capitale sono cominciate ad apparire striscioni abusivi di protesta su ogni cavalcavia. Oddio, su ogni ogni? Forse no. Su uno che ha svoltato. In poche ore è diventato in assoluto il cavalcavia più famoso della storia di tutti cavalcavia. Come diceva Warren, nella società dello spettacolo e della propaganda totale, ognuno avrà i suoi 15 minuti di celebrità globale. Non so, però, se con ognuno intendesse anche cavalcavia. D'altronde, era inevitabile. I cinesi del governo autoritario del PCC non ne possono più. Secondo un recente sondaggio di Edelman Trust Barometer, a dichiararsi non soddisfatti dell'operato del governo sarebbero ormai tantissimi. Circa 130 milioni. Il 9%. Il 91% invece continua a dargli fiducia. Il 9% in più rispetto all'anno precedente. Un record assoluto. Negli USA sono sotto il 40%. Ma anche qui facile, eh, quando sei una dittatura. E allora chiediamoci quanto deve essere grossa la percentuale di cittadini a cui stai sul coglione per essere una vera democrazia? In Russia, prima della guerra, si dicevano fiduciosi nell'operato del loro governo 37 cittadini ogni 100. In Nigeria 34. Bastano per essere considerati a tutti gli effetti una democrazia? In Norvegia, invece, la fiducia, secondo l'OECD, era al 78%. In Finlandia, all'83%. Basta per considerare le dittature? Tutta questa sfiducia nell'operato dei sci e del partito comunista è abbondantemente giustificata. Come ci ricorda Santevecchi sul Corriere, infatti, la crescita della Cina sta rallentando drammaticamente. Un misero più 3,2% per il 2022. E hai voglia a provare a buttare fumo negli occhi ricordando che sei l'unica economia del G20 a non aver conosciuto recessione negli anni di pandemia. La realtà è che fino a poco fa crescevi a doppia cifra. O meglio, ce lo volevi far credere. Perché a noi queste tue statistiche non ci hanno mai convinto. Asia News. L'economia cinese corre, ma le statistiche sono false. Il fatto. Boom cinese? E se i dati economici fossero fake? Inside over. Cina. Dati falsati e crescita gonfiata. Quello che non capisco è, ma se hai sempre truccato i dati, perché ora hai smesso? Cosa ci nascondi? L'hai fatto solo per creare confusione nella testa di Rampini? Guardami che testa l'hai fatto venire. Questa sì che è chiaramente una violazione dei diritti umani. Meno male che Rampini tiene duro e non te le manda a dire. E ci ricorda come la propaganda di Pechino amplifica le drammatizzazioni dei media USA che vedono sempre il declino dietro l'angolo. Ma lui no. Lui lo sa che nonostante le apparenze, gli ultimi mesi hanno confermato la forza della superpotenza occidentale che ha preso a bastonate Putin sul campo di battaglia e la Cina sui mercati. Hai voglia di spingere la tua propaganda di regime in tutto il mondo attraverso colossi della comunicazione come CGTN e Radio Cina Internazionale? Noi siamo alla resistenza e dalle nostre minuscole case matte, da Netflix alla CNN, passando per tutti i giornali di tutto l'Occidente e tutta Hollywood, riusciremo a ribaltare i rapporti di forza, perché abbiamo dalla nostra la verità che alla fine viene sempre a galla e alla fine è sempre rivoluzionaria. E così prenditi queste sentenze rampignane che come sciabole brandiscono il muro delle tue menzogne. Il ruolo del dollaro è sostenuto da un'economia di mercato garantita dallo Stato di diritto, capito eh? Non dalla potenza di fuoco della finanza, non dal Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, la Nato, dallo Stato di diritto. Ora siamo sinceri, sotto il domino di Xi Jinping la Cina magari può avere ottenuto anche qualche piccolo risultato, ma nessuno si chiede mai a quale prezzo? Oddio nessuno, nessuno forse è un po' esagerato, in questo libro ad esempio se lo chiedono. Hai migliorato la qualità dell'aria, ma a quale prezzo? Le tue città sono sempre più intelligenti, ma a quale prezzo? Si chiede la BBC. È vero, hai modernizzato la tua agricoltura, ma a quale prezzo? Si interrogano a Stanford. Wall Street Journal, la Cina ha costruito migliaia di cabine per fare i tamponi, ma a quale prezzo? China File, la Cina potrebbe diventare leader mondiale dell'intelligenza artificiale, ma a quale prezzo? Nature, le regole cinesi contro il deep fake sono uno strumento per la stabilità sociale, ma a quale prezzo? Bisogna sempre chiedersi qual è il prezzo da pagare, anche di fronte a quello che viene sbandierato come in assoluto il più grande dei risultati ottenuti dalla Cina e da Xi in particolare, aver debellato completamente nell'arco di 30 anni la povertà. Abbiamo sottratto dalla povertà assoluta 800 milioni di persone, si vantano sempre. Sì, vabbè, grazie al c***o. Diciamola tutta con la repubblichina. Tra tre mesi anche l'ultimo cinese uscirà dalla povertà, scrive. Però ha forza. Cioè, in Cina la repressione è così pervasiva, che uno non può manco morire di fame in pace. Se questo per voi è progresso, ora, questa carrellata di stronzate fa ridere, ma dovrebbe anche farci preoccupare. Come per Putin in Ucraina, il problema del wishful thinking del suprematismo culturale occidentale è che alla fine rischia di fare parecchi danni. Al di là dei buoni sentimenti, anche i più cinici, prima di imbarcarsi in un muro contro muro contro la seconda economia mondiale, dovrebbero come minimo farsi un attimo due conti e capire chi è che c'ha più da perdere. Tagliarsi i coglioni per far dispetto alla moglie non può essere l'unica bussola che guida le scelte di una classe dirigente. Soprattutto ora che tutti gli altri orefizi sono già ampiamente occupati tra inflazione, guerra energetica, recessione globale, rischio escalation nucleare. Prima di imbarcarsi in un'altra guerra persa in partenza, suggererei di approfondire un po' meglio rispetto al disco rotto di rampini e dintorni. Superare l'idiocrazia del suprematismo culturale non è tanto una scelta etica, è un'esigenza materiale concreta. Aiutaci a dare il nostro piccolo contributo. Aderisce alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e chi non aderisce è Federico Rampini.